Si sono difesi entrambi stamani Angelo e Salvatore La Spada, padre e figlio davanti al giudice del Tribunale di Catania, Simona Ragazzi, nel corso delle rispettive udienze di convalida. Assistiti dal legale Valeria Ferro in sostituzione del difensore di fiducia Enzo Iofrida, i due sono stati chiamati a rispondere rispettivamente di furto aggravato e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio a finire in manette è stato il padre, 62enne, pregiudicato. I carabinieri di riposto, in sinergia con i tecnici dell'Enel, hanno constatato come l'uomo avesse rotto i sigilli e manomesso il contatore elettrico della propria abitazione, al cui interno c'erano in funzione anche frigoriferi industriali per la conservazione di prodotti ittici. La manomissione, come accertato dai tecnici, avrebbe consentito ad Angelo La Spada di risparmiare più del 90% del consumo reale. L'uomo è stato così arrestato per furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari. Poco più di 24 ore prima a finire in manette era stato il figlio, 29enne, Salvatore. I carabinieri di Mascali, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno compiuto un blitz nell'abitazione del pregiudicato, già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Al termine della perquisizione, i militari dell'arma hanno trovato, ben nascosti in un intercapedine dell'ingresso, 160 grammi di marijuana, già suddivisa in 180 dosi, sostanza da taglio, un bilancino di precisione 200 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto è stato sottoposto a sequestro ed il 29enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Per Salvatore La Spada si sono spalancate le porte del carcere di Piazza Lanza a Catania.